Il Teramo vuole dimenticare la sconfitta interna con il Gubbio, ma il match di domani sarà di quelli difficili perché a Meda la squadra di Asta sfida il Renate, vice capolista. I numeri sono impietosi, dice Asta, e il tecnico Teramano riempie di complimenti la squadra Lombarda. I numeri sono questi. In questo momento la differenza di numeri è impietosa. Affrontiamo una squadra che ha perso solo una volta, è la miglior difesa del campionato, ha fatto più vittorie insieme al Padova, il Padova ne ha fatte di più, quindi ha perso solo una volta. Diciamo che non è più una favola, quello che stanno facendo a tutti gli effetti il Renate è la sorpresa, non solo la sorpresa di quest'anno, anche negli anni passati. Quindi non so cosa faranno lì per lavorare così bene, ma complimenti dalla società, direttori che conosco molto bene, da Crippa, Magoni, cambiano allenatore ogni anno, ma il succo rimane sempre quello. Fanno grandi annate con tanti giovani bravi e quindi tanto di cappello all'ora. La sconfitta con il Gubbio è stata del tutto immeritata, ma fa parte, va a innestarsi in un processo di crescita per il diavolo. Giochiamo bene, abbiamo anche perso e i giocatori questa l'hanno avvertito, non c'è dubbio. Quindi adesso è ricapire in fretta come reagiscono, ma conoscendoli un po', reagiranno come al solito, dando tutto, comportandosi in certa maniera. Cattivo, cattivo sai, ci mettono tutto. Ignorante, a livello sporco, ma più intelligente nel capire le situazioni, ecco questo sì. Sul fronte formazione Asta torna al 3-5-2, dunque con un centrocampista in più, finirà in panchina Bacio Terracino, in mediana con Amadio e De Grazia ci sarà Ilari, Varas e Ventola agiranno sugli esterni, recupera Speranza che guiderà la difesa con Caidi e Sales. Speranza da capitano che stringe sempre i denti ci sarà, non è al meglio, come anche De Grazia che ha avuto un piccolo intervento all'Abro, ha ripreso su Mare non al 100%, Fratangelo non ci sarà. In avanti, quasi certamente, Tulli e Foggia, è proprio dagli attaccanti che il tecnico Terramano Asta si aspetta un ulteriore salto di qualità. Li stiamo ruotando tutti, cambiando anche il sistema di gioco, ma questo non deve essere non avere delle idee, no no no, non le idee almeno io ce le ho ben precise, quella partita era da affrontare in una certa maniera, sul campo si è dimostrato. Siamo questi, una squadra in questo momento deve fare quel sistema di gioco con due attaccanti, quindi devono dare tutto, fuori due, dentro gli altri e quindi le alternative ce le hai.